In che modo la società civile può favorire la solidarietà? Io penso che sia un dovere del cittadino comune. Oggi ogni singolo cittadino deve contribuire alla crescita sociale. Ed è fondamentale che ciò avvenga anche in coordinazione con l'istituzione. Questa ricerca di dialogo è l'unico modo per rompere questo gelo che c'è fra cittadino e istituzione. Quindi una sorta di crescita collaborativa dove ogni singolo cittadino si deve sentire protagonista del proprio vivero civile. E questo sicuramente permetterà la crescita e una migliore uguaglianza sociale. Ha parlato della diversità dei popoli e dell'unicità dell'umanità. In che modo si possono costruire i ponti tra riva nord e riva sud del Mediterraneo? Noi ci dobbiamo ricordare che l'uomo è genotipicamente uguale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è capace di avere le stesse emozioni dovunque esso sia, se è stimolato nella profondità del proprio essere. Quindi ci sono dei linguaggi che sono universali, che sono dati dalle arti, dalla musica, dalla poesia, dalla pittura. Cioè uno comunque si emoziona di fronte a una cosa bella. Può essere una sensazione diversa, ma comunque una sensazione positiva. In questa maniera si può creare sicuramente una modalità di linguaggio comune. In altri termini cosa vuol dire? Se noi impariamo a conoscere la cultura delle altre persone nelle sue forme più vere, quelle espresse appunto dalle arti, probabilmente riusciamo a rivalorizzare l'altrui persona. E questa è la base del dialogo. Se c'è un processo di conoscenza della cultura dell'altrui persona, verosimilmente si creano le basi del dialogo e dell'integrazione. Proprio in relazione a quest'ultimo punto, la bellezza forse salverà il mondo. Crede davvero che la bellezza, le arti, la musica possano salvare il mondo in un momento come questo? Io penso che ne sono assolutamente convinto. Esistono dei mondi che probabilmente possono vivere non vittime di determinismo, non vittime della cultura finanziaria e economica che ci sta dietro. E queste sono quelle delle sensazioni, delle emozioni, della capacità dell'uomo di tirare fuori quello che sono il suo io vero interno. Vi spiego meglio. Da certi punti di vista, per natura l'uomo è capace di avvicinarsi all'altrui persona. Da parte dell'uomo, se c'è una persona che soffre a terra, l'istinto primo è quello di avvicinarsi. Sono le infrastrutture o la cultura che ci condiziona in ciò. Però alla base dell'uomo c'è comunque un evento positivo, un input positivo. Bisogna solo avere il coraggio di tirarlo fuori e di dialogare in termini liberi da concezioni deterministiche. Se riusciamo a fare questo, il processo è un processo culturale. Secondo me riusciamo nel nostro intento, grazie alle arti. Quindi sono certo che la bellezza salverà il mondo. Quali sono i progetti riguardo ad arte, musica, che Mondi si propone di fare? Fondamentalmente è un processo in continua crescita. Cioè qualsiasi cosa che è espressa tramite musica, pittura, arte, danza, va bene. Quindi quotidianamente possono nascere i progetti uno dietro l'altro. Intendo dire che noi abbiamo bisogno del coinvolgimento delle persone. Nel momento stesso in cui si crea il modello, si crea l'esempio, noi sicuramente riusciamo a rendere ciò replicabile. Una volta che è replicabile noi possiamo lanciare ovunque un messaggio del genere. Prendersi conto che tramite questi piccoli momenti di conto, grandi momenti di conto che siano, dove il dialogo appunto è quello delle sensazioni, il dialogo vero si realizza e il processo di integrazione avanti.